Ieri per me è stata una giornata particolarmente significativa, sono andato al mercato di Frosinone, mi ha avvicinato una signora anziana, Caterina, mi ha detto che lei ha 82 anni, che lavora da quando ne aveva 8 perché lavorava in campagna, allora ho pensato mi vorrà parlare della sua pensione, invece no, mi voleva dire che lei si è abituata a vivere con quella pensione così bassa, prende 600 Euro al mese, ma suo nipote che ha 28 anni ne prende 400. Quando noi diciamo governo di la verità sulla crisi, non diciamo uno slogan, diciamo abbiamo tutti la necessità di sapere perché dobbiamo rimboccarci le mani, perché Caterina non ha paura, gli italiani non hanno paura delle difficoltà, ma devono sapere che strada devono imboccare.